dopo aver paragonato salvini a un talebano l'assessore del pd non chiede scusa anzi rincara la dose altro che scuse claudio mazzanti assessore alla mobilità del comune di bologna va avanti per la sua strada non solo non ammettendo di aver sbagliato a condividere su facebook un post lanciato dal fan club ufficiale di andrea scansi in cui matteo salvini con barba e turbante viene insultato paragonato a un talebano questo è il mulla om e merda capo del talebani padani ma lancia nuovi duri attacchi alla lega io scusarmi ma neanche per sogno di mettermi ma scherza ha affermato compilio sicuro mazzanti esponente dem in una intervista repubblica eppure quel post non è passato inosservato tanto che lo stesso leader leghista ha contro replicato sulle sue pagine social condividendo il post e accompagnandolo da una che pena con tanto di querela l'assessore però non arretra alla domanda cosa ha fatto mazzanti ha subito risposto ma niente ma che vadano non vedo di cosa dovrei chiedere scusa ha continuato lo faccio quando penso d'avere torto mazzanti ha spiegato che quella era una vignetta satirica molto pesante è vero io non l'avrei fatta così e infatti vedo che chi l'ha rilasciata ora la ritirata ha affermato l'assessore che per difendersi ha ricordato che il post incriminato l'hanno condiviso in tanti ma non solo perché secondo il dem la vignetta nasce in un contesto ben preciso quale sia questo contesto è lo stesso mazzanti a spiegarlo quello di una lega che difende gente che vuole intitolare piazza hitler e di un salvini che fino a pochi giorni fa non ci pensava nemmeno ad aiutare gli afghani la prima cosa che ha detto è stata non verranno qui ora poi la situazione è cambiata secondo l'esponente del pd solo adesso dopo che tutti hanno detto il contrario ha iniziato a dire che sì magari le donne i bambini e chi ci ha aiutato grazie a tutti Grazie a tutti.